eccoci come promesso e come ogni giovedì a parlare della nostra borghi's league il nostro fantacampionato statistico su kickest è veramente emozionante è veramente particolare ci vuole del ragionamento ci vuole dell'intuizione ci vuole anche un po di fortuna ma meno rispetto al fantacalcio tradizionale è più una questione di lavoro per cui vi chiedo come sono andati i lavori nel weekend a me devo dire non male non male è stato un turno abbastanza soddisfacente ho avuto buoni punteggi mi sono assestato attorno alla posizione 150 però vi devo confessare una cosa in questo momento sono un po distratto perché più che delle sorti del mio borghi leven che comunque veleggia sono interessato sono focalizzato su questa grande sfida che ho lanciato perché vi ricorderete nel video scorso vi parlavo di questo possibile testa a testa fra due squadre rivelazioni del nostro campionato due grandiose sorprese al contrario come la squadra di Enrico e Matteo e la squadra di Paolo i miei amici che non si conoscono però ho deciso di metterli testa a testa creando una competizione incredibile come al solito Enrico e Matteo che ancora sulla panchina della squadra un po miracolosamente anche se mi ha detto che in questo weekend è andato bene bisogna sempre metterci d'accordo sul concetto di bene però se lui è andato bene io sono molto contento no dicevo ho chiesto a entrambi di fornirmi riferimenti delle loro posizioni di classifica e Enrico e Matteo vi mandano orgogliosamente la loro squadra assestata in posizione 5824 con tanta voglia di risalire la corrente mi arriva un messaggio da Paolo e vedo la sua squadra piazzata in posizione adesso non ricordo bene attorno a 460 470 e dico porca miseria si è rialzato non male poi comincia a balzarmi qualcosa all'occhio la squadra di Paolo è sempre stata Mr. Fly la squadra ora si chiama MBFC MB Matteo Benassi e allora dico ma ha cambiato nome della squadra chiedo a chi che non si può una squadra una volta registrata rimane quella cosa è successo? Paolo è stato talmente preso dallo spirito competitivo da aver cambiato squadra l'ha rifatta con i giocatori che appunto quando si crea una squadra nuova a stagione in corso prendono i punteggi medi per cui ha rifatto una squadra per piazzarla in alto in classifica non bastava l'inganno fatto su Benassi non bastavano tutti questi magheggi ha fatto addirittura questo io sono sorpreso francamente sono sorpreso perché conosco Paolo da tanto tempo è un professionista molto stimato nel suo settore è sempre stata una persona segnalatasi per il suo equilibrio il suo stile la sua sobrietà anche in quelle che sono le sue passioni calcistiche ad esempio lui è un grande tifoso del Manchester United non sopporta il Liverpool e ci può stare insomma è una questione di tifo di propensione però sempre con stile British anche in questi anni in cui Liverpool vince in Europa ora sta vincendo in patria lui sempre con molta compostezza riconosce anche se un po' fatica il valore dell'avversario in questa sua prima stagione al fantacalcio è veramente una scheggia impazzita tant'è che è preoccupato per lui anche sua moglie ogni tanto mi chiama e mi dice Paolo è chiuso in garage sta valutando delle statistiche sta creando dei sistemi nuovi per la sua squadra attenzione se incrociate Paolo perché è veramente molto determinato vuole arrivare davanti alla squadra di Enrico e Matteo vuole arrivare davanti anche a me chiaramente verrà osservato in modo speciale anche dai suoi due tutori che gli ho messo perché non è possibile questo tipo di atteggiamento veniamo però a noi veniamo alle scelte per questo weekend delle scelte che sono dettate dallo sviluppo della giornata divisa su tre turni c'è un anticipo del venerdì e non c'è posticipo del lunedì questo complica un po' le cose perché la situazione della domenica che culminerà nel derby con anche tanti dubbi di formazione ce la farà Andanovic o giocherà Padelli tante cose e le stesse condizioni di Ibrahimovic che io credo scenderà in campo rendono le selezioni non particolarmente immediate per cui io credo che in queste giornate si debba sfruttare la situazione per sperimentare un po' per cercare quelle scommesse perché il campionato comunque adesso è in una fase decisiva c'è ancora tanta strada davanti ma oggi bisogna fare la differenza io vi dichiaro l'obiettivo io voglio arrivare nei primi 100 entro fine stagione per cui devo cercare di pescare quei giocatori che magari non prendono tutti ma che potrebbero farmi la differenza in questa giornata vi presento la mia squadra inizio dai portieri io mantengo Padelli perché non si sa mai comunque costa come un secondo portiere nella partita del weekend scorso contro l'Udinese mi ha dato un ottimo punteggio di conseguenza io Padelli lo tengo in rosa però prendo un altro portiere che penso sarà il mio titolare perché prendo il portiere della Juventus la Juventus gioca sabato sera contro il Verona partita molto difficile però il Verona ha giocato anche in infrasettimanale e comunque il Verona non è una squadra che solitamente segna ondate di gol è una squadra che può arrivare a pungerti e ripeto per la Juventus sarà una partita molto difficile però io credo che anche per le dinamiche di questo fantacalcio statistico puntare su Scesni che magari può tenere la porta inviolata ma soprattutto può mostrare reattività può mostrare capacità nel caso in cui venisse chiamato in causa dalle punture dei veronesi potrebbe essere una scelta giusta per cui Scesni e Padelli sono i miei due portieri per questo weekend passiamo alla difesa in difesa faccio dei cambi sostanziali rispetto al solito lascio da parte ahimè per un weekend Rachmani ma è una questione di budget è una questione di equilibri lascio da parte per questo weekend anche Kolarov in attesa di capire se tornerà ad essere titolare come io penso o se invece Fonseca lo ha fatto fuori confermo ovviamente Teo Hernandez Teo Hernandez al derby sarà una partita molto complicata, molto esigente l'Inter ha anche cambiato sugli esterni Teo Hernandez abbiamo visto anche domenica contro il Verona che rimane un fattore offensivo enorme e infatti per un gioco come il fantacalcio anche questo statistico è comunque una cosa estremamente notevole e considerevole difensivamente invece può avere qualche scompenso e da quella parte l'Inter attaccherà è una scelta rischiosa ma io di lasciare da parte Teo Hernandez non me la sento come secondo difensore di grande rango ho deciso di prendere Bonucci sempre per il discorso precedente della partita fra Verona e Juventus è una partita nella quale forse anche le palle inattive potranno avere un'incidenza e allora magari una testata di Bonucci piuttosto che la Juventus dovrà maneggiare il pallone velocemente e allora la qualità in uscita del suo difensore di riferimento possono essere armi da sfruttare Bonucci lo metto nella mia squadra così come ho deciso di mettere un giocatore che fin qui non avevo mai preso ovvero Spinazzola lascio da parte Collarove e prendo Spinazzola perché? perché Spinazzola in questo momento è titolare nella Roma ha dato un cambio di passo sensibile dopo le vicissitudini di gennaio è un giocatore che può anche presentarsi a ridosso dell'area avversaria la Roma gioca una partita determinante una partita complicata contro il Bologna perché il Bologna specialmente di oggi non è squadra facile da affrontare però la Roma gioca all'Olimpico deve rispondere dopo il 2-4 del Mapei Stadium per cui un giocatore della Roma in questo reparto me lo prendo anche perché gli altri reparti sono un po' scarni soprattutto al centrocampo ho deciso di prendere Spinazzola e a completare il roster dei miei difensori due chiamate che spero possano essere azzeccate ma da low budget una è Bastos la Lazio ha squalificato Radu per la partita con il Parma è vero che Inzaghi può modificare la propria difesa in diversi modi c'è la candidatura di Patrick che in teoria dovrebbe essere il primo cambio difensivo però vediamo io decido di puntare su Bastos Bastos ha un prezzo comunque adeguato al fatto che non è un titolare me lo metto nel roster lo metto in formazione e poi vediamo se ne avrò bisogno così come metto in formazione un terzino sinistro che all'inizio del campionato era praticamente uno sconosciuto che ci ha messo un po' a lavorare ad adeguarsi ma che adesso è una delle risorse principali del sassuolo di De Zerbi sto parlando del greco Kyriakopoulos Kyriakopoulos a sinistra sta facendo un campionato ottimo negli ultimi tempi sia lui che Tollian dall'altra parte hanno un rendimento estremamente cresciuto rispetto all'inizio della stagione e per un discorso di budget Kyriakopoulos si inserisce bene nel mio roster poi è sempre difficile prevedere le scelte di De Zerbi rientra anche Peluso dalla squalifica però me la gioco me la gioco al limite comunque io credo che sul mio pacchetto a tre Teo, Spinazzola, Bonucci potrò contare passo al centrocampo il centrocampo invece è il reparto che tocco meno rispetto all'ultimo weekend perché ho fatto grandi investimenti ho speso buona parte del budget per avere centrocampisti importanti e allora ve lo dico subito faccio una sola modifica rispetto alla squadra del weekend passato quindi confermo Luis Alberto Luis Alberto anche nel recupero infrastrimonale con l'Elas Verona è stato superlativo ha colpito due pali ha impegnato Silvestri ci è andato vicino altre due volte credo che Luis Alberto abbia anche un conto aperto con la buona sorte in quanto a gol realizzati per cui per la partita di Parma in assenza di Milinkovic Luis Alberto dovrebbe essere ancora una volta il condottiero della Lazio confermo anche Joe Pedro il Cagliaro è una partita estremamente difficile contro il Genoa però il Cagliari deve ritrovare la vittoria dopo essersi in qualche modo ripreso ma aver inanellato dei pareggi sarà molto difficile però se c'è un giocatore che sta dando garanzie su basi continuate a questa squadra è proprio un Joe Pedro da record 14 gol segnati in campionato da dei tempi di Zico che un brasiliano non segnava così tanto in Serie A e direi che questo basta per confermare la fiducia sull'attaccante del Cagliari e che per questo fantacalce centrocampista quindi come si suol dire grasso che cola ero un po' indeciso ma ho deciso di confermare anche il Papu Gomez indeciso perché perché l'Atalanta contro la Fiorentina è una delle partite più scintillanti del weekend però anche in questo caso sarebbe troppa violenza nei confronti della mia passione per il calcio del mio gusto per l'estetica lasciar perdere il Papu Gomez per cui lo tengo nella mia squadra con il numero 10 sulle spalle vediamo che tipo di partita verrà fuori comunque come vedete dal mio roster ho la possibilità di modificare e di ampliare abbastanza le scelte e quindi al limite potrei anche assorbire una giornata storta un altro che conferma è Zielinski Zielinski Amarassi nel posticipo di lunedì non ha giocato la sua miglior partita dei tempi recenti che sono stati però molto migliori rispetto ai primi tempi di questa stagione è andato in gol contro la Juventus è andato in gol anche contro la Sampdoria annullato giustamente per fuori gioco mi sembra che stia provando con continuità l'inserimento Zielinski per cui meglio tenerlo in squadra Napoli gioca contro il Lecce potrebbe essere un fattore tattico e tecnico e a completare il centrocampo l'unico giocatore che cambio e che prendo che meglio mi riprendo è Rodrigo De Paul l'Udinese ha fatto zero punti nelle ultime tre giornate ne avrebbe meritati almeno tre se non di più di conseguenza gioca contro il Brescia Brescia reduce dall'ennesimo Rivaltone De Paul è il leader tecnico dell'Udinese mi sembra che oltretutto si incastri molto bene in questo mio centrocampo pieno di numeri dieci o quasi mi piace il calcio così di conseguenza mi piace anche il fantacalcio così veniamo all'attacco in attacco sarò noioso ma ovviamente schiero sempre Ciro Immobile Ciro Immobile oltretutto si è fermato in infrasettimanale quando la nostra Borges League non era attiva ci può stare si è preso un respiro dovrà ritornare a guidare la Lazio con quelle che sono state medie veramente incredibili in questa prima parte di stagione e poi gli affianco due giocattori che hanno bisogno un pochino di rispolverarsi uno Duvan Zapata chiamo il colombiano per questo weekend Duvan Zapata da quando è rientrato dal lungo infortunio ovvero in questo 2020 ha segnato un solo gol su calcio di rigore nello 0 a 7 incassato dal Torino in casa la partita storica vinta dall'Atalanta dall'Olimpico io credo che sia arrivato il momento per Duvan Zapata di riprendere il discorso di riprendere a fatturare di riprendere ad essere quel cararmato offensivo che è sempre stato mi pare in crescita di condizione mi pare ben lavorato e ben gestito dallo staff dell'Atalanta per cui la mia scommessa per il weekend è Duvan Zapata e come terzo attaccante prendo un altro che non deve rispolverarsi a livello personale deve tirar fuori la sua squadra dal pantano infernale in cui si è infilata e parlo del capitano del Torino del Gallo Belotti il Torino ha una partita che non può sbagliare contro la Sampdoria in casa il Torino ha cambiato allenatore e lo stesso Moreno Longo ha indicato immediatamente Belotti come il faro come la pietra angolare su cui ricostruire una squadra finita in macerie Belotti è l'unico con il portiere Sirigo che non è mai mancato Belotti non potrà mancare Belotti dovrà segnare e Belotti entra nella mia squadra una squadra che do in mano a Gennaro Gattuso Gattuso sta dimostrando di avere le redini in mano a Napoli di avere un controllo totale sulla situazione per cui c'è anche Napoli-Lecce Napoli deve rullare deve fare risultati in vista poi delle due trasferte con Cagliari e Brescia dell'impegno di Coppa Italia e del ritorno della Champions League Gennaro Gattuso ha tutta la mia fiducia che ne dite della mia squadra qualche sperimentazione una difesa un po' particolare però centrocampo e attacco veramente forti pesanti e ispirati sono convinto che possa essere un weekend di ripresa un weekend importante vedremo come andrà e soprattutto occhio a Paolo occhio a Paolo perché è una scheggia impazzita in questo campionato